. Barbara D'Urso furiosa con Aida Jespica, ecco cosa avrebbe fatto la venezuelana Wind Zuiden. Gelo tra la presentatrice partenopea e la 35enne modella venezuelana. Nonostante Cancelletto Barbara D'Urso si stia godendo una meritata vacanza, le notizie di gossip sul suo conto continuano a circolare sul web. La conduttrice partenopea di pomeriggio 5 e domenica live, in attesa dell8 gennaio 2018, data in cui ritorneranno in onda i suoi contenitori, sta trascorrendo qualche giorno a Venezia. . Ma nelle ultime ore, su internet sta circolando una notizia che ha dell'incredibile, Barbara D'Urso sarebbe furiosa con un ex inquilina del Cancelletto Grande Fratello Vip 2. Stiamo parlando di Aida Jespica, video, la 35enne modella venezuelana. . Ma cosa sarebbe successo tra le due donne? Nel prosieguo dell'articolo troverete tutti i particolari. Lex inquilina avrebbe mentito alla conduttrice napoletana. . Secondo quello riportato su un noto portale web che si occupa di gossip e televisione, sarebbe calato il gelo tra la presentatrice napoletana e la fidanzata di Geppi. . Ma per quale motivo? Sembrerebbe che le ultime dichiarazioni rilasciate dalla Jespica durante una sua ospitata nel programma di Canale 5, avrebbe detto qualcosa di non veritiero. . Chi segue Pomeriggio 5, si è accorto che la settimana scorsa è stata invitata a Aida per parlare della sua esperienza nella casa di Cinecittà e della sua vita privata, ovvero della sua relazione sentimentale con Giuseppe Lama. . Secondo il noto portale, la venezuelana avrebbe mentito spudoratamente alla presentatrice e naturalmente a tutti gli spettatori che hanno seguito la puntata. . Inoltre, circolerebbe la voce che la D'Urso non abbia digerito la presa in giro e addirittura avrebbe chiamato la 35enne per manifestarle tutta la sua contrarietà. D'Urso e spica, è guerra tra le due donne. . Tutto è partito dall'intervista rilasciata a Pomeriggio 5. Barbara ha chiesto all'ex concorrente del Grande Fratello Vip 2, video, come andasse la sua storia sentimentale con Giuseppe. . La diretta interessata, senza giri di parole ha affermato che tra lei e Lama le cose vanno alla grande. A quanto pare non è proprio così, infatti, i due ragazzi si erano già lasciati. . Allora per quale motivo ha detto questa bugia alla D'Urso? La risposta è molto semplice, la modella aveva rilasciato un'intervista esclusiva al settimanale Chi, quindi non poteva anticipare nulla altrimenti avrebbe rovinato lo scoop alla rivista diretta da Alfonso Signorini. . A questo punto la domanda sorge spontanea, la jespica sarà più ospitata nei salotti di Barbara? .